E' giorno, vi svegliate, non ci sono particolari lezioni perché quest'anno vi è stato insegnato tutto, c'è giusto l'ultimo mese di assestamento per ripetere, dare qualche prova di abilità, fare le ultime partite di Quidditch, semplicemente destreggiarvi un po' per il castello prima di rientrare a casa delle vacanze estive. Cosa fate? Beh io scendo dal letto e mi infilo le mie ciabattine pelose. Beh ma le scarpe non le hai tu? Io no, ho solo le ciabattine pelose. Ok, anche sulla scopa quando gioca a Quidditch, è un pericolo. Sì, sì. E niente, mi lavo la faccia, mi lavo il culo e scendo a mangiare. Io non mi lavo perché l'uomo dà a puzzare, mi chiamava a spaccarmi i croissant degli elfi, con due. Immagino andate tutti quanti in giro. Sì, andiamo a fare colazione. Vedete tutti quanti i professori che mangiano e vi osservano. Vabbè raga, siamo d'accordo che semmai dovessero scoprirci il sacrificabile a James. Nel senso, siamo tutti d'accordo che indicheremo James come responsabile. Per la prima volta sono d'accordo con te. Esatto. Vedo che comunque siete riconoscenti con me per aver trovato i libri. Grazie. Utilissimi tra l'altro. Sono sei mesi che leggi e non c'è ancora detto un cazzo. Molto meglio i babai, immagino. A voglia. Salazar si alza in piedi, batte su un bicchiere un po' di volte, si schiarisce la gola. Come dà accordi, entro la mezzanotte sono stati consegnati i libri intonsi, che erano stati trafugati dal bagaglio degli egizi. Quindi quantomeno i malfattori sono stati buoni. Io mi aspetto che per la fine della giornata tutto quello che è stato trafugato dal laboratorio di pozioni torni al suo posto. Che palle, non si può mettere nel cazzo però, eh. No, no, diciamo in generale. Fatemi un tiro su finezza. Finezza. Beccati così. Allora, stai tira finezza e fa... Quanto ho fatto? Quattro. Torca troia. Eh, Matt tira, anzi, renda al tira e fa... Sei, bella merda. Percival, guardi un attimino Nicolas che per un attimo distoglie lo sguardo dal guardare Salazar e si guarda un attimino le scarpe. Ragazzi, comunque il professore Nicolas non è che me la conta giusta ancora. Ma no che non la conta giusta, sono due mesi che scappa e nasconde roba. Sì, poi adesso aveva uno sguardo un po' strano, si guardava le scarpe e poi... Le scarpe. Secondo me si droga poi le... Beh sì, con tutte quelle pozioni. Eh sì, sì, sì. Ci può anche stare in effetti. Possiamo andare a parlarci magari. Beh, comunque, signori, io proverei un abbordaggio... come dire... un po'... Un po' più di polso. Un po' più di polso. Nel senso... Fate parlare me, è un piano. Beh, inseguiamo Nicolas, lo fermiamo. Professore! Ditemi ragazzi. Ascolti, detto tra noi, tra me e me, tra uomini, allievo e insegnante. Noi sappiamo. Cosa sapete? Noi sappiamo. Non faccio finta di niente, noi sappiamo. Eh, tirami per sfusione. Io c'ho per sfusione alta, occhio. No, ti avviso anche. È il mio personaggio per sfusione. Attenzione, eh. Dai, fammi sto quindici almeno. Pizzo punto. Dai. Bello! No, buttati fuori dalla scuola! Non ho veramente idea di che cosa voi stiate parlando, ragazzi. Vabbè, io palesemente mi giro verso i miei compagni e li faccio, ragazzi, il piano è fallito. Pensateci voi. Che strano. Professore, ma semplicemente sono mesi che la incontriamo nei corridoi e la vediamo... Sì, sono mesi che in effetti incontro anche io voi nei corridoi. Sì, forse dovrei avvertire qualche professore che siete sempre fuori nell'orario in cui non dovete. Adesso non esageriamo perché abbiamo appena finito colazione e possiamo essere qua. Quindi parliamo tra persone... Professore, parliamo tra persone adulte. Tira fuori la lama. No, ma stai zitto! Lo amo! Randa, calmati! Randa, calmati! Tappateli la bocca! Tiragli un babba in testa. Professore, noi la vediamo solo un po' fuggente in questi ultimi mesi e volevamo capire cosa stava succedendo, potevamo anche aiutarla magari. Sì, noi siamo preoccupati per lei, perché noi sappiamo, professore, vogliamo aiutarla. Però io non dico più niente, la mia persuasione nei suoi confronti è una merda. Aiutarmi a fare cosa? Ma aiutarla con la droga. No! Signore! Quello che sa benissimo, professore, lo sappiamo noi, lo sa lei, è inutile girarci intorno. Tira persuasione. Io c'ho una persuasione di merda. Buon ciao. Dai Persimo! Ma come fai a essere più bravo lui di me? Culo! Vabbè, se proprio volete aiutarmi, venite questa notte nell'aula di pozioni. Uuuu! Te l'ho detto! Però acqua in bocca. Acqua in bocca. Assolutamente. Io comunque per festeggiare mi giro verso James e li lancio Taranta Allegra, perché voglio vederlo ballare. Così. Così? Ma per festeggiare! Per festeggiare! Non si può festeggiare. Cos'è tanto a lei? Lo fai davvero? Sì, lo faccio davvero. Va bene. Tira charms. No, per te arti oscure. Io devo tirare qualcosa per conto. Dark arts. Tu ti alzi e balli, se funziona. Dark arts, ok. Arti oscure. Cos'è? Hai fatti sto ballo? Balla, bala! James, preso completamente alla sprovvista, ti vedi Randall che si gira, tira fuori la bacchetta, pronuncia Taranta Allegra, fa un movimento, ti scaglia addosso un incantesimo, tu non hai idea di che cosa sia, non hai idea di come scontrarlo, niente, tutto accade in una frazione di secondo e le tue gambe iniziano a ballare, ma tu non vuoi, cioè il tuo busto è fermo, ma le tue gambe cominciano a ballare, inizia a fare il tip-tap involontariamente. Oh, ma sei bravo, eh! Scusa Randall, dove hai imparato questa? Eh, una tradizione di famiglia, ce l'ho insegnato la scorsa volta, tu purtroppo. Randall, fermami. Non ce l'ho insegnato Taranta Allegra. James, eh, guarda, ti dirò, sei veramente bello quando balli. Il professore scoppia un attimino in una risata, poi si rende conto di essere in un contesto scolastico, si schiarisce la cosa, Randall, per quanto possa essere divertente, è sempre bene non farlo all'interno di edifici, perché potrebbe andare contro qualcuno che non è molto... Ha ragione, professore, però lei va nei bagni a pippare, io al Taranta Allegra, secondo me, non l'ho capito. Il professore estrae la bacchetta e fa, finite, James smette di ballare. Non finisce qui. No, ma tranquillo, ma già era nel chilling, madonna, sì, ma prendia più nel ridere, madonna mia. A me ha divertito. Donna santa. A stasera, ragazzi. A stasera, signor. Allora, prof, va bene, raga. Vabbè, signori, allora, è palese che Nick ci nasconde qualcosa. Beh, siamo finalmente riusciti, grazie a... Grazie a me, al mio piano di persuasione, finalmente siamo riusciti a metterlo con le spalle al muro. Non hai persuaso proprio nessuno. Ti sei girato e ti sei allontanato. E avete capito che la mia è stata tutta una tattica. È stata tutta una tattica. Ma noi ci vediamo così tanto del professor Nicolás. Ma cosa vuoi che succeda, Massimo? Cosa vuoi fare? Lo fai ballare, cosa vuoi fare? Massimo, io tiro una Taranta Allegra pure al buio. Qualcosa ci inventeremo. Madonna, siete aridi comunque oggi. Va bene, cosa abbiamo da fare prima che venga buio? Non lo so, andiamo al secondo piano. Bisognerebbe chiedere al professor Nicolás dove vuole ficcare il naso. Dai! Andiamo al secondo piano dell'egiziano. Dove fino a ieri avreste giurato che c'era una porta, questa porta non c'è. C'era una cazzo di porta qui? Mi sa che... Lo so. Probabilmente devono aver pensato che uno l'ha trovata, come effettivamente è stato, e l'hanno spostata, o hanno fatto un altro accesso, o l'hanno non lo so. Classica porta di Lerua Merlin che non funzionava, hanno dovuto cambiare. Io provo a toccare il muro. Sì, forse è invisibile, bisogna toccare il muro come per uscire, anche per entrare bisogna toccare il muro. Io tocco il muro, palpo, come un pazzo. Allora, fatemi un tiro di iniziativa per l'ordine in cui agite. Viola e Randall avete praticamente la stessa idea, quella di provare comunque a tastare il muro, perché avete capito che quando una porta svanisce, nel caso in cui, quando eravate entrati in questa stanza, era svanita, bastava spingere il muro e poi completamente riappariva, provate ad allungare la mano, ma qualche centimetro prima che riusciate a toccare il muro con la mano, Randall ti anticipa di pochino, probabilmente per la sua foga, e Randall mi fai un tiro su... Spirito, per favore. Spirito, spirito. Eccan. Mamma mia. Stasera proprio, porca madonna. Vieni. Testata contro il muro. Vieni praticamente travolto da una scossa, te la senti passare in tutto il corpo, vieni sbalzato a più o meno una decina di metri indietro, quindi voi vedete Randall che quasi tocca il muro, prende una scossa, viene sbalzato dieci metri indietro rispetto a voi, e perde conoscenza. Oh cazzo. Ma non prima di dire... Che sballo, raga! Direi anche prima. E svengo. Rifacciamolo! Oddio, che cazzo è successo? Non lo so, però a me lo sto un po' zitto, raga. Hanno messo degli incantesimi di difesa. Sì, hanno palesemente messo qualcosa. Ma, scusate, quando noi eravamo dentro e la porta spariva, anche da fuori non c'era la porta, e magari c'è qualcuno dentro e quindi la porta non la vediamo. Il problema non è che non vediamo la porta a Percival, il problema è che non ci potremo più entrare. Allora che tu non sappia disinnescare un incantesimo di difesa. Allora, tolgo una scarpa a Randall, e con la suola di gomma provo a toccare il muro. Ma lanciala a sto punto! La gomma trattiene l'elettricità. Sì, sì, questo è scientificamente provato. Cos'è che fai quindi? Quindi provo a tastare il muro, invece di toccarlo con la mano lo tocco con la scarpa di Randall. La fortuna vuole che tu abbia una scarpa in mano. Questa scarpa riceve una scossa che senti anche tu, leggera, leggera. La scarpa vola via, ti vola indietro, vive nella stessa dimensione di Randall, quasi gli ritorna sui piedi. Vabbè, ci ho provato, raga. Siamo d'accordo che nessuno deve toccare sto muro? Ora sì. D'accordo, d'accordo. Quindi prendiamo Randall e portiamolo in infermeria. Siete in infermeria e arriva l'infermiera. Cos'è successo, ragazzi? Ma è caduto dalle scarpe. Sai, loro piacciono cambiare, lui ha sbagliato. No, vede, aveva la scarpa slacciata, l'ha persa e l'ha inciampato. Peccato che so di pollo fritto, però. Si è rotto qualcosa? Che ne so, è lei, è la dottoressa, è quello che cosa sono io. E lei è l'infermiera, me lo dica a lei se si è rotto qualcosa. Lo guarda, lo tasta, prepara velocemente una pozzoncina, gliela do da bere e vi dice dategli tempo qualche ora e si riprenderà. Possiamo lasciarlo qui in infermeria, dottoressa? Sì, certo. Perfetto. Ma lo può legare, anche. Scappiamo, raga. La mia paura è che oltre a la scossa o qualche cosa che abbia colpito Randall, ci sia anche un sistema di allerta sulla porta. Possibile. Quindi magari noi torniamo lì e c'è qualcuno che ci aspetta. E allora niente. L'unica cosa da fare è aspettare che Randall si riprenda e poi andare stanotte da Nicholas. Yes, ci sto. Abbiamo già rischiato abbastanza oggi. Passa il tempo, magari voi state in infermeria, non so, Randall ti riprendi. L'infermiera si chiede e dice, i tuoi amici sono stati molto bravi, ti hanno portato qui, eri malconcio, però il mio tonico ti ha aiutato, ti ha riportato tutto intero. Minchia, voglio rifarlo assolutamente. Ti senti meglio? Ma sì, mi sento abbastanza bene. Poi con le sue cure, signorina, devo dire che tutto sommato, comunque io... Grazie, grazie. Mi può trovare sempre al dormitorio dove sei il preverde. Ok, per la prossima volta fai attenzione quando vai in giro per le scale. Sì, anche lei, signorina. Attenzionissima, la ringrazio per l'opera in mura, signor Randall. Ha fatto l'occhiolino. Il mio numero lo trovo in bacheca. Comunque, a parte i danni celebrali che mi ha lasciato la scossa, avete scoperto qualcosa? Intanto è ora di cena. Viola ha provato anche lei a toccare il muro, però con la tua scarpa. Perché con la mia scarpa? Ma le mie Nike, limitate edition. Guarda come è ridotta, cosa gli dovevo dire? Che cosa gli è successo a sta scarpa? Non se ne sarebbe almeno accorto. Viola, mi devi una scarpa a un appuntamento. Oh! Della scarpa. Ma a proposito di scarpe, non è che Nicolas trama qualcosa con le scarpe? Vabbè, tanto ci andremo stanno. Con le scarpe. Che cazzo vuol dire? Perché si guardava le scarpe. Siete sicuri che Viola non ha subito una scossa pure lei? Un po' l'ho presa, mi sa. Vabbè, comunque ho fame, andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Su, l'ora di cena fate una bella cenona. Anche lì tutti i professori riguardano nulla in particolare da dire. Bene ragazzi, io direi che possiamo andare nel dormitorio. A mezzanotte ci becchiamo. Sì, esatto. Almeno non destiamo troppi sospetti. Ok, bollenti. Però un po' prima di mezzanotte. Perché poi nei quadri rompono il cazzo. Passano un paio di ore. Sono circa le dieci, undici. Iniziate ad andare verso l'aula di pozioni. E vi trovate lì davanti. Davanti alla porta dell'aula, chiusa. Io busserei. Eh sì. Toc toc, apre leggermente, si apre leggermente la porta. Esce fuori un piccolo occhietto di Nicolas. Con una bacchetta puntata verso di voi. Toc toc. E poi, meravigliato, fa. Ah, siete voi? Non credevo voleste darmi una mano davvero. Prego, prego, entrate in fretta. Vi conduce verso il suo ufficio. Professore, cosa sta facendo? È una pozione. Grazie. Quale? Pensavo alla pasta. Che tipo di pozione? Che tipo di pasta? È una pozione di mia invenzione. Professore, noi la vorremmo aiutare. Ma vorremmo anche sapere a cosa la stiamo aiutando. Passatemi quella provettina blu che c'è laggiù, grazie. Versa questo intruglio in una boccetta e fa un piccolo spoof. Io voglio sapere che cos'è questa pozione. Cioè, glielo chiedi? Sì. Glielo chiediamo in coro, proprio. Cosa serve? Serve ad essere eterni e ad avere tutto. Vi sembra un po' pazzo quando ve lo dice? Ma è da mo' che ci sembra pazzo. I miei studi mi hanno portato a capire che una certa correlazione di ingredienti messi insieme con un certo... E intanto armeggia. Con una certa quantità, un certo tipo di atmosfera, un certo tipo di creazione, i giusti componenti alchemici e magici potrebbero dare vita a quella che è. Prende una boccetta, la versa sopra questa pietra scarlatta. Fatemi tutti, per favore, spirito. Randall e James, forse perché siete vicini e riuscite ad aggrapparvi a un certo punto al muro quando vedete che sta per versare questa pozione sulla pietra. Non ve la sentite tanto bene questa cosa. Mentre tutti gli altri vengono scaraventati da una potentissima esplosione non appena il liquido tocca la pietra. La vostra amica Chiralia perde conoscenza sbattendo la testa. Nel miasma dell'esplosione di tutto questo trambusto che avete sentito, tutte le provette sfasciate per terra, praticamente l'ufficio quasi raso al suolo, lui erge questa pietra scintillante che tu, Viola, guardi e ti sembra di averla già vista e mi fai un tiro su intelligenza. Nel frattempo lui erge questa pietra e dice La pietra filosofale. E tu ricordi Per la madonna! di averla vista in un tuo sogno, ma non così tanto nitidamente. L'ha già vissuto. Viola? Da Vannamark. Raga, l'ho vista! L'ho già vista io quella roba lì, eh? Tu l'hai vista? Io non so. Si avvicina a Nicola e si dice dove? Come? Quando? Sì, ma prima di tutto calma, che già hai fatto esplodere tutto quanto e c'è Chiralia svenuta lì, per favore dategli due carezze. No, adesso a Chiralia gli diamo una... Non puoi averla già vista, ragazzina, sai perché non puoi averla già vista? Perché questa pozione non esiste, l'ho creata io, l'ho inventata. Ma io la pietra ho visto, zio. La pietra non esiste, l'ho inventata io. Ma sei bugiardo, io l'ho vista in un sogno. Magari ti ho sognato. Ho sognato questo momento? Prevedo il futuro. Raccontarmi, per filo e per segno, il sogno che hai avuto. Allora, io ricordo di un uomo che entrava in qualcosa e poi usciva... Un bambino. No, no, no. Usciva, entrava e usciva da un... Adesso non mi ricordo se era un triangolo o qualcosa. Esatto, un triangolo. Un arco? Era un arco? Era un arco, era un arco. E aveva qualcosa di scintillante in tasca. Quindi funziona! Che cosa? Allora, io adesso le ho detto le cose che so. Non ti ascolta, esce. Inizia ad andare avanti. No, no, io lo inseguo, lo inseguo. No, sta scappando praticamente. Scappo col... E voi avete la vostra amica stesa di fianco. Allora, la nostra stesa le diamo una pozione curativa minore, così non rompe il cazzo, si ripida al volo. Ti riprendi. Esatto. Grazie, ragazzi. Perfetto. No, raga, non vale. Io volevo... Io gli corro dietro. Io giusto gli corro dietro. Va bene. Ma anch'io, anch'io. Corriamo fortissimo, cosa dobbiamo tirare? Ma voi state con... Potenza! Voi state con Kiralia. Ma l'abbiamo svegliata. L'abbiamo svegliata, adesso ce la fa, guarda, cura... Allora, partono subito, James e Viola a correre e voi siete un pochino dietro. Esatto, esatto, esatto. Allora, James e Viola lo vedete uscire dall'aula e inizia, prende il corridoio per andare verso la sala grande. Voi lo seguite? Corriamo, corriamo. Fatemi finezza. Partival, ma dove stiamo andando? Se volete nascondervi. Eh, mi sa che Viola ha sbirrato. Ok, Viola riesce a mantenere i passi per non farsi scoprire, James? Ho fatto nove. Ah, hai fatto nove? Eh, mi dispiace. Si gira un attimo, si accorge che lo state seguendo e neanche il tempo di capire quello che sta succedendo vi scompare davanti agli occhi. Sì, vabbè, affangulo. Noi li abbiamo raggiunti? Sì, adesso li raggiungete. State andando dietro. Viola e James, quando vi girate, vedete arrivare di corsa Persi, Valchirali e Randall. Non vale però, ha detto che... Beh, arrivo io e gli faccio dove è finito il prof. Eh, sarebbe bello saperlo, è sparito. Era qua in giro. Non è che è sotto la statua, non è che è andato sotto la statua. Questa fottuta statua di merda. Sì, ma sta cazzo di statua, appunto, primo non si è mossa. Punto secondo, anche se fosse mosso o lui fosse finito là sotto... Tirate tutti quanti finezza. Non riusciamo a scendere, che cazzo. Stasera i dadi sono marci. Cinque. Mamma mia. Sono proprio marci stasera. Ma schia. Non c'erano. Mamma mia. Mamma mia. Continuate a parlare. Io provo a dire agli altri, ragazzi. Voi state qua. Sedetevi sulla statua. Fate in modo che non si muova in qualche modo. Io provo ad andare a avvisare Godric. E noi non abbiamo le capacità per trovarlo. Mentre dici questo, chi si sente di voi fortunato, ragazzi? Chi vuole prendere in mano le redini del gioco in questo momento? Ma c'è da chiedere, eh! Ok, Matt. Vai. Tu e te? Sì. Scegli. Pari o dispari e scegli Godric o Salazar. Dispari e Godric. Ok. Dispari e Godric, pari e Salazar. Tira un dado. Vabbè, intanto non c'entra un cazzo per l'alto boss. Deve uscire o pari o dispari. Possibilmente dispari. Dispari fu. Godric, come James stai dicendo, vado ad avvisare Godric, ti giri e dall'aula dei professori sta proprio arrivando camminando abbastanza in maniera rapida Godric. Cioè io lo vedo? Sì, come ti giri lo vedi. Ma cammina rapido preoccupato o minaccioso? No, no, preoccupato, sta cercando di capire cosa è successo, c'è stata un'esplosione. Gli corro incontro. Prof, professore. Dimmi, dimmi, che è successo? Cosa mai, perché sei fuori dal dormitorio? Un attimo, le giuro che poi potrà punirmi ma c'è qualcosa di più importante. Il professor Flamel ha fatto qualcosa che non so a questo punto quanto fosse legale. Lo stavamo inseguendo ed è scomparso, era qua in giro. Ditemi esattamente che cosa ha fatto. Ha versato una pozione blu su una pietra rossa. Non ha messo la morbide. Ha versato una pozione su una pietra e... Credo abbia sentito l'esplosione, vero? Sì, è per questo che sono sceso. Poi ha urlato che ce l'aveva fatta e ha iniziato a correre. Ce l'aveva fatta a fare cosa? A creare quello che lui chiama pietra filosofale. Professore, non lo so, però mi faccio il favore di trovarlo. Professore, cazzo, ma è lei, professore? Gli faccio tutte le domande che vuole. Io non le so rispondere. Era qua. Ma ce l'ha fatta a fare cosa? A fare una pietra? È riuscito a fare una pietra? Le pietre si trovano ovunque. Randal, spiegagli cosa ha detto. È speciale. Che mortale. Dilli che è una vita eterna. Randal, ma ti sei il James. Svegliati, cazzo. Ha detto che serve per farlo vivere per sempre. Per non aver più bisogno di nulla. Oh, Dio santo. Quindi è questo il casino che sento da me. così in questa scuola. Mi sembrava strano che accettasse subito. Quindi il tonfo in bagno era lui che faceva le prove. Qualcun altro l'ha visto, qualcun altro ha avuto, non so, perché dovrebbe andarsene dopo aver fatto quello che ha fatto. E' stato, professore, si svegli, per Dio. E' qua sotto la statua. Sposti sta statua. Sposti sta statua, che sono sette puntate, che ci proviamo, ci siamo rotti il cazzo. Ma solo noi sappiamo la parola d'ordine per questo passaggio. E voi come fate a sapere che questo passaggio... e cerchiamo di capire cosa sta succedendo tra lei, le cose che sa lei e le cose che sappiamo noi. Mentre parli, lui dice semplicemente, Hogwarts, la statua si sposta. Ma che cazzo! Ma era così facile? Avete mai detto Hogwarts davanti a quella statua? No. E appunto, nessuno si sognerebbe mai di dire... Lui scende. Vai, vai, andiamo dietro. Sì, andiamo al professore. Tira fuori la bacchetta. Anche noi. Lumos Maxima. Fa una colonna di luce immensa lungo tutto il corridoio. Ragazzi, se volete venire con me, è lunga la passeggiata, però. Professore, posso parlarle un secondo? Assolutamente sì. Allora, non so se possa centrare qualcosa, però magari a lei è un tassello che può aiutarla. In sostanza, mi ha chiesto che cosa ho sognato, perché io quella pietra che lui aveva in mano l'avevo già sognata e ce l'aveva in tasca un uomo che entrava in un arco e usciva da questo arco. Quindi se lei sa che cos'è questo arco, potremmo fare 2 più 2. Forse sto facendo 2 più 2, ma dovresti gentilmente spiegarmi com'era fatto quest'arco. Ah, dentro quell'arco c'erano dei veli da sposa spostati dal vento. Ok, non dire altro. Quello è l'arco tenuto dal ministero dove le anime trapassano. Chi si getta in quell'arco passa nell'altro mondo. Ma in questo momento voi mi state dicendo che Nicolas è in possesso di una pietra che gli impedirebbe di trapassare. Così dice lui. Eh sì, anche perché nel mio sogno lui tornava indietro. Quindi lui vuole andare lì e provare a farlo. Quindi lui avrebbe la facoltà di andare nell'aldilà e di tornare indietro a suo piacimento. Prof, sì, glielo stiamo dicendo da 10 minuti. Lei che cazzo ci dice a proposito? Credo sia andato al ministero. Quindi che cazzo facciamo sotto sta statua adesso? Voi tornate nelle vostre camere. No, adesso ne aggeriamo. No, e io vado a sistemare qui. Vi apre di nuovo il passaggio segreto. Vi lascio andare su. Prego, uno dopo l'altro. Sì, grazie. E non raccontate a nessuno di questo. No, ma ti pare. Si smaterializza. E voilà. Oh, ragazzi, sei andato. La parola la sappiamo. Possiamo andare al senso. Eh sì, sti cazzi, direi. Nel senso, ormai siamo qua. Io voglio sapere cosa c'è lì sotto. Io non lo so. Viola, hai fatto caso ai muri per casa? Le pareti si erano uguali a quelle del tuo sogno dove esce sto serpentone marcio? Come erano? Ci hai fatto caso? Quello che c'è sotto la statua è praticamente terriccio e un po' di muratura, mentre tu hai visto pareti di pietra. Ok, quindi in teoria magari arriviamo in fondo e c'è queste pareti di pietra e uscirà sto serpentone. Andiamo? Andate? Sì, sì, andiamo. Mentre iniziate a camminare la statua si chiude dietro di voi ed è molto molto buio. Raga, porca boi. Lancio l'humus. Ah, è vero. Esatto, abbiamo l'humus. Ce l'avete automatico? Io sì. Non lo so. Aspetta, devo guardare. Non mi hai scritto la difficoltà, quindi non lo so. Difficoltà è sempre set. Ok. Beh, tiratemelo lo stesso perché se qualcuno ci lecca fa critico rosso. Ma per essere automatico devi avere Sharma set. Sì. Io non ce l'ho automatico. Io direi che mi entra. Beh, tutti quelli che vogliono fare l'humus. Ok. Vi illumino fino dall'altra parte. Che è dimmenso proprio. Benevissimi. Adesso siete cinque persone in un tunnel con la bacchetta accesa e per il prossimo incantesimo dovete prima spegnere la bacchetta e poi lanciare il prossimo incantesimo. Andiamo avanti. Siamo cinque geni comunque. Però vedete, è molto bello in sto tunnel, lo giuro. Io c'ho la congiuntivite, quindi mi servivo. Vabbè, qualcuno può spegnere la bacchetta. Siete arrivate alla fine di questo tunnel dopo quasi una buona ora di camminata e in arrivate alla fine di questo tunnel c'è una scaletta a pioli che va verso l'alto e se puntate la bacchetta verso l'alto vedete una piccola botola di legno. Vai James, è il tuo momento. Vai, salgo. Aspetta, aspetta, qualcuno spenga la bacchetta. La spengo io che è tanto la meno luminosa. La spengo anche io con Randa. L'ultima volta che vi aiuto. Sì, la spengo anche io con Randa, rimanete voi tre. Spengo la bacchetta. Dico di sotto, fatemi luce per favore. Io e Chiralia facciamo luce. Ti fanno luce. Spengo la bacchetta e lancio all'omor. Si senti un clac clac e se provi adesso a spingere la botola verso l'alto si apre. Ti sembra di essere, quando tiri fuori la testolina, in un negozio che vende oggetti, chiamiamoli oggetti particolari, riguardanti le creature magiche? E mi sporgo verso il basso. Ragazzi, siamo credo nel magazzino di un negozio, quindi potete venire su. Ok, saliamo. Ok. Nel mentre che loro salgono, io mi guardo intorno, cerco una porta, qualcosa. Sì, c'è una porta che conduce all'esterno, ti sembra da vedere dalle finestre che ci sono accanto alla porta, una scala che porta verso l'alto. Nel frattempo vai uno a uno, salite. Provo a guardare dalla finestra, riconosco il posto? È una piccola cittadina. Noti che c'è una locanda, noti che ci sono altri negozi, noti che ci sono dei carretti fuori, delle panchine. Mi giro verso gli altri e cosa facciamo? Usciamo? Beh, di sicuro nascosto sotto questa statua, non credo ci sia un negozio per roba di animali, animagus e cazzi e manzi, quindi credo che ci sarà dell'altro. Ma io credo fosse solo un passaggio segreto per arrivare da qualche altra parte. Appunto, appunto. Ma siamo fuori dal castello? Sì. Ah. Siamo in una cittadina, credo abbastanza vicino al castello perché... Abbiamo camminato un'oretta, quindi sì, è vicina. Ah sì. Vabbè, usciamo, vediamo cosa c'è fuori. Quando provi ad aprire la porta, la porta è chiusa. Eh vabbè, ovvio. Rilancio all'omore. E niente, non si apre. Anzi, fa un rumore veramente brutto e da sopra la vostra testa iniziate a sentire scricchiolare le travi di legno come se qualcuno stesse camminando. E sentite sgranchire la gola. Signor Shake, non l'aspettavo a quest'ora. Oh mio Dio, fermi tutti. James, tu puoi cambiare le tue... Mi faccio solo mettere comodo e la raggiungo subito di sotto. Sì, che è il professore di legiziano. Io, Dio, sì, io posso cambiare. Qua di trasfigurazione, James, cazzo! Fingiti lui! Posso provarci. Io adesso prendo, perché vi ho fatto un pochino di storia, quindi quello che avete detto lo prendo per detto in game. Sì, sì. Quindi, scusa Miranda, ma tu hai urlato. Oh no. È vero. Sentite da sopra. Insomma, in quanti siete là sotto? Senti accendere un cerino, una specie di candelina. Il master è già stato cattivo. Arrivare giù abbastanza di corsa. Vedete i piedi scendere da questa scalinata. Io mi nascondo. Dove? Dietro un mobile. Va bene. Tira finezza. Porca di quella troia. Volevate il pepe del culo? Adesso ce l'avete. Bravo, bravo. Eh sì. Eh, mi sa che non riesci tanto a nasconderti. Provi a metterti dietro una libreria e quella libreria, la urti, iniziano a cadere dei libri di creature magiche. E quindi fate casino. Insomma, ma tutto questo casino là sotto. Scende ancora più veloce. Master, 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 dimmi cosa c'è nella stanza. Librerie attorno ai muri. Poi ci sono degli scaffali con alcuni libri, alcune pergamene. Poi ci sono altri scaffali con tanti barattolini con dentro aggeggi per animali e cucce, roba varia. Tutta roba per animali messa come in un negozio. È abbastanza grande questo negozio. Immagina due volte il tuo studio. Cucce, hai detto? Sì, cucce. In centro al negozio c'è questa botola. Quindi non ci entro in questa cuccia? No, no, no. Sono cucce per cani. Ok, ti ringorgio sulla cuccia. Non mi nascondo dentro. Oh mio Dio. Ragazzi, siamo troppi. Non possiamo nascondere. Posso provare? Vai, scusi. Voglio fare... Ti ringorgio sulla cuccia. Sì. La cuccia diventa più grande, urta un po' di cose che ci sono di fianco, quindi urta altre cucce, fa un po' di rumore, senti... La cuccia ingrandisce, c'è abbastanza spazio per entrare. Mi metto lì e faccio la cuccia. Ci stiamo anche noi? No, ci sta una persona. Io provo a rilanciare Alo Mora sulla porta. Oh. Ok, la porta si apre, ma come sentite James dire Alo Mora e la porta si apre, l'uomo scende le scale e dice... Ragazzini, ma voi che ci fate qui? Studio. Abbiamo un tema. Come siete entrati qua dentro? Dalla porta, non veniva aperta. Non mi raccontare frottole, avete appena usato un incantesimo per aprirlo e io conosco molto bene quegli incantesimi. Estrae la bacchetta. Ditemi subito che cosa ci fate qui, prima che io prenda provvedimenti. Io sento tutto, Master, e dalla mia cuccia li lancio... ho paura, ho paura che ci siano le conseguenze tremende. E li lancio Pietrificus Totalus addosso. Ti prego. Arti oscure. Per una volta salvoci da... Sì, vabbè, ma micca, dai. Cioè, a me lo metto un po' di pepe, se no micca. No, no, perfetto. Vai, vai. Questo ci secca. Sì! Perfetto, perfetto. Non aspettandoselo, prova leggermente a cansare, a schivare, quando ti sente pronunciare Pietrificus Totalus, ma come si butta, tu lo colpisci sulle gambe e diventa paralizzato. Dieci minuti più uno per livello o qualcosa così? Uno per livello. Allora, dieci minuti più un minuto per ogni livello, oltre la difficoltà base. Ah, oltre la difficoltà base. Quindi la difficoltà base è sette, tu hai fatto dodici, quindi fa dieci più cinquindici minuti, avete un quarto d'ora in cui lui è completamente bloccato. È una domanda master, ma è cosciente di quello che succede? Esatto, era una domanda che stavo dicendo, ma lui può bere? Cioè se io gli fico una roba in bocca può bere? Può deglutire? No, no, lui è completamente paralizzato. Lui è paralizzato ma sente e vede. Non può né bere né parlare né far nulla. Ma se io gli fico una pozione in bocca non gli va giù? No, non deglutisce. No, perché non ha i muscoli attivi. Ok, va bene. Potrebbe addirittura soffocare. Io intanto gli tolgo la bacchetta. Togliamogli la bacchetta. Io salgo sopra. Ok. Come sopra? Abbiamo dieci minuti. Beh, voglio vedere che cazzo fai e che cazzo 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 cazzo. Eh, io volevo, ragazzi volevo dargli obbligo per fargli dimenticare tutto, però se non possiamo usarla... Eh. Allora, al di sopra, Viola, c'è una porta che sali le scale, alla fine delle scale c'è una porta e entrando in quella porta c'è una piccola rimessa, sembra un ufficetto con una scrivania, un po' di robe per lavorare, ci sono anche lì un po' di cose per gli animali, un po' di libri, pochissimi libri e un letto per dormire. Ti sembra praticamente la dependance del negozio dove lui vive? Guardo, sulla scrivania c'è qualcosa di utile? Sulla scrivania c'è un libro che tratta di creature magiche. Ok. Raga, qua su c'è un libro che parla di creature magiche. Che faccio? Un prendido, prendido. Non si sa mai. Prendilo, magari troviamo il lucertolone. Lo prendo e torno giù. Cosa facciamo? Usciamo dalla porta, ragazzi, o entriamo di nuovo nella botola? Beh, io sono... Cioè, arriviamo a capire che cazzo dove portava tutta sta roba, quindi io non tornerei indietro. Ragazzi, lui si aspettava la visita di qualcuno e sappiamo benissimo chi è. E si, ha detto il nome. È l'egiziano. Esatto. Quindi, sicuramente non c'è la racconta giusta. Beh, se torniamo indietro magari sta arrivando sto egiziano. Lo incrociamo. Non ti è tornare indietro. Anche perché, ha detto, non ti aspettavo così presto. Una volta incrociato ci difenderemo veramente bene. Ha detto, non ti aspettavo così presto. Quindi vuol dire che arriverà a breve. Quindi stia arrivando. E quindi noi usciamo dalla porta. Io vorrei uscire, prendere un sasso, metterlo sulla botola e tirare in gorgio. Bravo, bravo, mi piace James. Esci fuori, trovi un sasso, lo metti sulla botola e tiri charm. Il sasso diventa abbastanza grande da essere difficile da spostare a mani nude. Bravo, James. Ci siamo tolti una via di fuga. Ma abbiamo anche tolto una via d'accesso. Voglio vedere come va a finire. Io in realtà però l'avrei fatto accedere e avrei spiato che cazzo facevano. Che altro? Non possiamo... Parlo sotto... Allora, usciamo tutti fuori che vi devo dire una cosa senza che quell'altro senta. Ok, siete fuori. Più che altro non possiamo... Lui ci vede? Lui sente, sì, penso di sì. No, adesso dalla distanza che siete non riesce a vedervi perché siete fuori. No, no, dico all'interno della... Cioè, ci vede comunque cosa facciamo? O sente solo? Sì, sì, per come è messo vede che vi spostate, che avete messo il coso, però non può avvisare nessuno, non può parlare, mi può sentire anche. La mia idea era quella di fargli credere che stessimo tornando indietro, in qualche modo chiudendo la botola, facendo rumori, però se ci vede non ha senso. Cioè l'unica cosa è fargli dimenticare tutto e vedere se arriva l'egiziano e si dicono qualcosa. Sì, dai, allora, rientriamo in casa un attimo, lo leghiamo, cerchiamo una corda, Master. C'è una corda? Ok, sì, ho trovato una corda. Ok, troviamo una corda, lo leghiamo. Al piano di sopra, però. Lo leghiamo al piano di sopra. E poi la tattica sarà questa, appena finisce il pietrifico Stotalus, il buon James, li tapperà il naso. Beh, già mentre l'ho portata è iniziata a vedere che piano piano inizia a acquistare sensibilità alle dita delle mani, inizia a muoverle. Sì, le dobbiamo muoverci, le dobbiamo muoverci, qua sta finendo l'incantesimo. Io intanto che loro fanno questa cosa, posso spostare quel masso? Cioè più che altro devo farlo sparire? Io forse posso trasfigurarlo. Io ho un incantesimo per ridurlo. Eh, fai riduccio, fai riduccio. Ah, sì, tu ce l'hai. Vabbè, voi intanto portatelo su e fatelo quella cosa della gola che glielo ho infilato. Master, c'è una molletta da qualche parte? No, però ci avete delle bellissime mani. Ok. Io rimango di sotto, Giuseppe. Il sasso è tornato piccolo. Perfetto, il sasso è tornato piccolo. Ok, io lo prendo e lo lancio fuori. Perfetto. Lontanissimo. Comunque questo devo farlo prima di uscire. Tira, tira finezza. Ma dai. Ma infatti magari rompi la finestra adesso. Ci sta con te. Perché, raga, ma non ragionavate di un po'. Minchia, fate le cose a cazzo di cacca. Eh, cosa bello? Dio Cristo. Ma perché non volevo lasciarlo lì? Ma un attimo, facci far dimenticare al tipo le cose. Voi lo state già facendo. Ma quando usciamo, trattiamo il sasso. Ma noi non avevamo più tempo. Parte il sasso e spacca la finestra del negozio. Tranquilli, raga. Abbiamo simulato un furto. Reparo. Abbiamo simulato un furto. Abbiamo simulato un furto. Va, tranquilli. Il dico che non doveva fare. Tirare un sasso tipo a una CD5. Però. Ma io volevo lanciarlo fuori. Cioè, volevo uscire e lanciarlo fuori, raga. Non da te. E mi hai detto, lo prendo e lo lancio fuori. Vabbè, posso giustare questa finestra? Chi ha a reparo, sì. Ce l'abbiamo? Qualcuno ce l'ha? Io ce la reparo, forse. Ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo imparato in classico. Va bene. Allora, raga, in ordine. Allora, siamo sopra. Finita la Pietreficus Totalus? A che punto siamo? Sta quasi finendo. Sta iniziando a riprendere Formicolio. Allora, io sono su con James. Avverto James e gli dico, James, appena finisce Pietreficus Totalus, tappali il naso e io li farò bere oblio. Perfetto. Poi urlo e dico, voi là sotto, teste di cazzo. Cosa avete combinato? Sistemate la finestra, perché ho capito. Cioè, ho sentito la puttanata che han fatto. Sì, sì, sì. Ok, Percival, lancia. Lo fa Chiraglia, scusa. Vai, vai, Chiraglia. Vieni, ci provo io. Attenzione. Finestra a posto. Gliel'ho fatta nuova, la finestra. Nel frattempo che voi fate questa cosa, Iniziamo tutti magari ad uscire? Sì, noi tre sì. Eh, voi iniziate ad uscire, sì. Ok. Noi aspettiamo. Gli versate... Si sveglia. Può già iniziare a deglutire. Vai, vai. Ok, va bene. Per com'è? James gli tappa al naso. Io prendo la mia bella pozione oblio, io che mi sono portato ficcata sopra il culo. Gliela faccio deglutire. E cosa succede, Master? E lui la butta giù, chiude un attimino gli occhi come se stesse perdendo conoscenza. Perfetto. Io dico subito a James, vai, scappiamo via. Torniamo giù. Torniamo giù. Richiudo la porta che porta di sopra. Ci assicuriamo anche che non ci sia nessun vetro della finestra per terra. Non c'è nessun vetro della finestra per terra. Perfetto, e ce ne andiamo. Aspetta, aspetta. Metto a posto i miei libri che ho fatto cadere prima. Ok. Sì, c'è ancora una cuccia enorme in mezzo al... Ok, bravi, finalmente. Eh, Chiraglia, per favore fammi riduccio su quella cazzo di... Ok. Cuccia ridotta. Libri messi a posto. La botola è chiusa. Raga, il libro che ho io glielo lasciamo o me lo porto dietro? No, il libro è ruba, lo vaffanculo. Ok. L'importante è che non sappia che è stato. Fate in fretta. Siete fuori proprio al limite. Quando chiudete la porta e iniziate a correre via, vedete accendersi la luce del... di quella casa e capite che quella persona si è ripresa e probabilmente sta cercando un po' di capire che diavolo è successo. Tornate al castello. Lì dove ci mettete più o meno, quello che vi rendete conto è che se ci avete messo un'ora su questo tunnel per tornare al castello ci mettete circa due ore e mezza. Corricchiando anche, mentre in questo tunnel siete andati camminando. Madonna, sono stanco come... Io continuo a chiedermi che cazzo ci fosse di così importante in questo passaggio. Perché c'è questo passaggio sotto la statua? Soltanto portava solo a questa cittadina e basta? Porta a quel negozio. E noi abbiamo visto l'egiziano entrarci, sappiamo che lui lo aspetta, non all'ora a cui siamo arrivati noi, ma lo aspetta, quindi credo che le visite siano frequenti. Eh, ho capito, ma perché? Quello mi chiedo. Quello è il problema. Cioè, cosa vanno? Vanno lì, si prende un caffè, torna indietro? Briscolino. Eh. Intanto che camminiamo leggo il libro. È un approfondimento di un tipo di maledizione scritta per alcuni versi in una lingua sconosciuta, che però trovate spesso, che è il latino. Per altri versi ci sono delle piccole note in geroglifico. Beh, facciamo leggere a Chiraglia le note in geroglifico, visto che... Quello che riesci a comprendere... Non è tantissimo, ma tra una parola in geroglifico qua è qualcosa di latino che riesci anche a capire, a ricondurre magari su varie cose di maledizioni, eccetera. Pare che non è così scontato che alcune persone dell'antichità lanciassero sortileggi a famiglie ed eredi. Ci sono, quello che c'è scritto in una postilla, buone probabilità che una persona sia attualmente maledetta e che alla lunga, col passare del tempo, non possa più avere coscienza di quello che è adesso e di quello che era una volta. Quindi in poche parole il ragazzo che viene protetto è maledetto, probabilmente. Essendo di famiglia comunque nobile o reggente, potrebbe essere... Le prove portano lì. C'è una parola che si ripete spesso, la ritrovi in tante pagine e anche tradotta in egiziano e la sua parte latina è maledictus. Ma scusatemi, non ho capito, che tipo di maledizione è? Non si sa, ma dice che questa maledizione a lungo andare può portare la persona maledetta a non avere più coscienza di sé e di quello che era prima. Che potrebbe essere comunque un serpente, siccome eravamo in un cazzo di animali. Potrebbe essere la lucertola che tu hai visto. Il lucertolone. Diciamo che è il protetto degli egiziani, quello che dorme in mezzo, lì adesso non mi ricordo. Sì, quello. Quello lì è maledetto. Sì, probabilmente sì. Siete arrivati ad Hogwarts, vedete smaterializzarsi davanti a voi, proprio davanti alla statua dove vi eravate lasciati, Godric con, appeso alla mano, preso dal cappuccio, Nicolas. Lui ci vede? Sì, vi incrociano gli sguardi. E voi che ci fate ancora fuori? Abbiamo detto di andare nella vostra casata. Sì, è vero professore, ma abbiamo avuto delle rivelazioni un po' scioccanti, quindi abbiamo deciso di prendere un po' d'aria, non siamo riusciti ad andare a dormire, ci scusi. Questa volta ve la faccio passare perché è solo grazie a voi che ho capito cosa stava architettando lui, nonché comunque già riuscito a far tutto, quindi c'è poco da fare. Adesso però dobbiamo tornare alle nostre faccende, quindi andate a dormire. James e Chiralia, sentite, mentre si allontanano, poche parole, ma sono ben distinte. Se ti ho fatto venire qui non era per giocare al pozionista e fare le tue cose, dovevi tenermi sotto controllo. Sotto controllo? Dovevi? Tenermi? Tenermi sotto controllo qualcosa o qualcuno. O se stesso? Ah, e quindi è il professor Godric che si trasforma. Oppure avete sentito solo un pezzo della frase e voleva dire tenermi sotto controllo gli egiziani. Lui o qualcun altro? Ha detto tenermi sotto controllo. Tenermi sotto controllo. Riusciamo a seguirlo un pochino e sentire cosa dicono? Vai di nodo con Finenza. Vai. La prima va... Madonna, adesso tiro 20. 20. 20, cazzo! Vaffanculo, puttana miseria. Ma Finenza è sempre una merda. Vado anch'io, Giuse. Ok. Proviamo tutti, qualcuno ce la fa. No, sì, il problema è solo il Chiki, non ce lo sa. Minchia stè. Eh, vabbè! E niente, io sono forte solo con gli incantesimi. Fatto abbastanza rumore, si girano e Godric, ragazzi, non fatemi pentire di quello che ho fatto, vi sto lasciando andare a dormire, salite nei vostri dormitori, dimenticate questa notte e lasciate che ce ne occupiamo noi. Sì, professore, mi scusi, mi si è ciampata la ciabattina. Non mi sembra, visto che avete quasi rocambolato giù dalle scale in due. Eh, perché Chiarele mi aiutava. Forza, nei vostri dormitori. A destra, scusi, professore. Oh, Viola, hai avuto delle altre rivelazioni mentre dormivi, altre visioni. Potrei? Condividile allora. Solo se lei condivide con noi quello che sa. Il vero motivo per cui lui è qui è perché mi serve capire se c'è qualcosa da fare per uno dei nostri ospiti, magari con, non so, una pozione, per cercare di levarli da una brutta maledizione che li affligge da secoli e che purtroppo li lega come popolo a Salazar. Sono amici da Ere, lui e i suoi genitori e i suoi avi e vorremmo spezzare questo circolo vizioso una volta per tutte. Quindi Nicolas è qui per questo, ma non riusciamo a capire qual è il problema. A me era sembrato di capire che Nicolas stava facendo qualcosa di sbagliato a subire. Sì, ne ha approfittato, è per questo che è venuto. Noi l'abbiamo assunto con il fatto che vi potesse insegnare delle pozioni. Nel frattempo potevamo curare questa persona, invece si è fatto bellamente gli affari suoi e di questa persona noi non sappiamo ancora niente. Supponiamo che Sheik, essendo in contatti con Salazar da millenni, tra lui e la famiglia, ovviamente non con Salazar direttamente, abbia qualcosa che non va. È sempre taciturno, sembra sempre spensierato. Io là, forse potresti dirgli una visione, sia quella del lucertolone che quella della donna che porto rio. Ma vuoi fidare? A questo punto io... A questo punto io mi sono rotto il cazzo! Va bene! Io, come già detto... Come parli, senti una botta fortissima provenire dal bagno dei serperti. E niente. Raga, allora... Il successo è illegale. Questo cazzo di serpente bastardo è palesemente Salazar. Mi scusi, professore, lei ha sentito questo rumore? Certo, che cosa è stato? Andiamo insieme, per favore, a vedere cos'è. Perché noi è già la seconda volta. Terza. Terza volta che finiamo in quel bagno. Va bene, andiamo a vedere. E quando arrivate davanti al bagno dei serpeverde, all'interno trovate Shake, fissare quello che sembra un buco nel pavimento, la torre con i lavandini e praticamente a ogni lavandino separato si sono allargati tra di loro per fornire questo buco nel pavimento e c'è Shake che guarda verso il basso. Aha! Quindi c'era un buco qui. Visto che si apriva nel bagno dei mostri. Godric estrae la bacchetta. E che dice? Niente, la estrae e vi prende con il braccio e vi mette dietro. Ok, raga, palesemente c'è il lucertolone che è palesemente Salazar. Professore, io ho avuto una visione in cui c'era una lucertola al di sotto di... Bene, adesso Viola me lo dici? Credo che non sia il momento. Forse era giusto dirlo ieri sera. Lei mi ha interrotto tre volte. Non voleva dire niente di ciò che sapeva. Adesso ragazzi, mettetevi dietro. Andate a chiamare le vostre professoresse e non incrociate lo sguardo con nessuno. Il mio professore è lì, quindi io sto lì. Questo anch'io mando Chiralia a chiamare la professoressa nostra. Vado con Chiralia. Poi andate a chiamare la professoressa? Sì, andiamo a chiamare le due professoresse. Quando vi allontanate e cominciate a correre, le scale cambiano. Eh no, ma... Voi siete dietro Godric che al momento si gira e c'è girato verso di voi per parlarvi, per dirvi di andarvene e sentite solo una voce dire stupeficium. E Godric viene scaraventato fuori dalla porta e siete voi con il professore Sheik davanti a voi che vi fissa, vi punta la bacchetta. Iniziativa. Io, James. Io. Percival. Qua vuola qualcuno. Secondo anno non ci arriviamo. Ma che palle? Ma tutto il giorno finezza? Ma fammi vedere questa potenza che mi sto pestando. Madonna. Io sono caduto all'indietro. Madonna, abbiamo fatto tre che... Comincio io. James. La prima bacchetta viene puntata verso di te. Tu senti dire Expelliarmus. Ovviamente non sai come reagire. Io non so che incantesimo sia. Ok. Ho visto Godric volare. Penso. Bene. Non so cosa ha tirato. Ma se mi prende mi fa male. Quindi prova a schivare. Tiri finezza. Minchia. Ti fai un volo. Raga, è un professore. Scusate. Che può... Giustamente. Come tu provi a schivare? Prendi l'incantesimo dritto in faccia. Ah, porra. Il tuo valore di potere. Il tuo valore di potere. scende di uno e la tua bacchetta vola da un'altra parte. Quindi scende di uno. Scusami, non di potere, di spirito. Scende di uno. Sono già uno. Come faccio a mettere zero? Sei già uno? Bene, si vieni. A posto. Allora. Il prossimo punto che ti arriva sei praticamente morto. Abbiamo perso lo squaiato. Andate. Andate. Vabbè, ma svieni solo adesso. Non ti preoccupare. Andate. Quindi, in ordine, ci sarebbe l'otto. Cioè, prima Randall, poi Percival. Randall, fa qualcosa. Nel frattempo voi dal corridoio in sé sentire Correte. Possiamo entrare? No, voi siete delle professoresse, no? No, non siamo arrivate. Le scale hanno cambiato. Ah, minchia. Siamo lì fuori, noi. Potete aspettare che le scale cambino e chiamare professoresse o fare altro. Quanto ci vuole? Ah, Buki lo sai. Sai? Sei messa lì col timer a guardare quanto le scale ci mettono a girare. Facciamo una cosa. Chirale, tu rimani a bordo scala. Caccia un urlo se cambia qualcosa e se dovessero cambiare vai a chiamare le professoresse. Io intanto sbircio dalla porta ma rimango fuori. Non vi faccio vedere. Il tempo stringe, Randall, cosa fai? Porca puttana. Oh, mi tiro Pietrificus totalus addosso e mi faccio i cazzi miei. Sarebbe geniale però io qua applaudirei e mi farei colpire dal professore Fai il tuo. Oppure me la rischio me la rischio e... Beh, potrei tirargli un Taranta Allegra però, eh? Madonna e ballo egiziano. Eh, però balla ma può comunque fare cose. Ma allora Taranta Allegra forza le gambe e bersaglia a ballare quindi boh potrebbe comunque muovere le mani. Può fare quello che vuole. Esatto, non serve un cazzo. Pietrificus è l'unico che diciamo potrebbe servire al momento. Ho incendio ma incendio che cazzo gli faccio? Freggeri danni. No, vai, vai. Provo a tirargli un Pietrificus per forza. È l'unico lo devo bloccare. Vai, nel frattempo che pensi a cosa fare senti una specie di venire dalle tubature del castello. Minchia pure. Eccolo là all'Ucertolone. Allora io da fuori sto guardando che... sei arrivata. Adesso mi tiri anche tu iniziativa anzi tu come iniziativa che sei arrivata sei dopo Luca. Ok. Cosa devo tirare? Niente, niente. Tanto sei arrivata ora quindi vedrai Randall che farà l'incantesimo Luca farà il suo e poi tu deciderai cosa fare. Poi tocca a me devo tirare. Ma io non posso fare qualcosa. Ma Charm o Arti Oscuro? Arti Oscure. No, al tuo turno. Quando c'è il combattimento allora spiego questa cosa anche per chi non lo sa quando c'è il combattimento io chiedo iniziativa viene scandito tutto in turni quindi c'è che ne so io che ho fatto dieci che sono il professore in questo momento inizio per primo poi c'è Rago poi c'è Matt poi c'è Luca e poi ci sei tu. Ma io voglio solo chiamare Chiralia. Ok. Questo lo puoi fare perché parlare è un'azione gratuita. Tutto questo qua tutto questo che avviene cioè io che faccio il professore Matt che fa questo Luca che fa quello Rago che sviene tutto questo avviene in un round. un round è conteggiato per venire per durare dai 3 ai 6 secondi quindi quando Matt quando ti faccio esempio il professore dice Stupeficium contro no scusa quando il professore dice Expelliarmus contro James Randall sta già preparando il Pietrificusto Talus Percival sta già preparando il suo coso questo è solo per dare l'ordine di azione però avviene tutto simultaneamente quindi c'è una classe di difficoltà perché lui in questo caso sta tirando un incantesimo ma sta per essere sbersagliato da due quindi capito è tutta una meccanica che viene questo lo dico anche per chi non lo sa quindi tu in questo momento sei arrivata con James che cade per terra Randall che sta per fare un incantesimo e tu se vuoi parlare puoi parlare semplicemente io volevo ho visto che sta succedendo bordello brutto e dico Chiralia forse è meglio se vieni anche tu ma io a Randall possiamo mandarlo insieme l'incantesimo voi lo mandate insieme quando Randall fa una cosa tu stai facendo esattamente quella che pensi tu solo che non avete il tempo di coordinarvi perché se vi mettete a parlare sprecate un round per parlare per coordinarvi ok quindi ora lui appena ha lanciato l'incantesimo e voi state facendo queste cose quindi Randall Petrificus totalus mi devi tirare arti oscure arti oscure signore dado è momento di fare un 20 eh porca troia che merda no è abbastanza per per farlo partire io intanto sento Viola che mi chiama e corro sì prova a difendersi dall'attacco e gli senti dire proteggo e fa un piccolo movimento semicircolare dal con la bacchetta dopo aver scagliato il suo il suo incantesimo e mentre sta arrivando il tuo dov'è di infrangersi contro un muro invisibile praticamente si riesce a proteggere da questo Petrificus totalus Percival io non c'ho un cazzo posso volargli in faccia non hai niente niente c'è un incendio solo mi hai fatto una scheda io non c'ho un cazzo io oddio dai qualcosina ce l'hai no c'è un solo incendio ti lasciare ok vado buono brucia Luca la sua aura di protezione non è abbastanza alta per per permettere a questo incantesimo di infrangerci sopra e quindi passa questa leggera fiammella addosso al professore che inizia a bruciargli lentamente i vestiti e il professore cerca di dimenarsi per spegnersi la tunica che sta attualmente andando a fuoco Viola vai colpisci allora io sono indecisa vi chiedo consigli non si può vero no è il tempo ok allora sono le cose così devi proprio ragionartela rapida e agire nulla vado vado anch'io con incendio ok vai attualmente il professore conta come colto alla sprovvista perché sta semplicemente aspettando di spegnersi anche il tuo incendio comunque molto tirato molto bene finisce al di sopra e prende ancora più fuoco di quello che sta prendendo toccherebbe al professore ma attualmente impegnato a spegnersi riesce a far abbassare per quello che riesce le fiamme ma ancora qualche cosa sui drappelli della giocca sta iniziando a prendere fuoco inizia a spogliarsi avete ancora un turno aggiuntivo tutti voi a partire da Matt poi Luca poi Ste e poi Cree questo è l'ordine ma Cree adesso non ha fatto niente no perché è arrivata dopo no perché si sta togliendo i vestiti perché bruciano no Cree ah no non ha fatto niente perché è arrivata ora eh però aspetta no adesso che si sta dimenando provo di nuovo Pietrificus totalus eh dai dagli la botta definitiva la botta definitiva è l'unica dobbiamo arrivare a te arti oscure sì dagli sta stecca di nuovo come colto alla sprovvista ma che voglio vederlo cadere all'indietro ma non mi chiede tutta la sera che non mi esce alto il pietrificus totalus meglio tirato della storia di Hogwarts lo blocca secco mentre sta tentando di dimenarsi per togliersi i vestiti bloccato completamente cade catatonico per terra e il fuoco inizia a bruciargli addosso attualmente ha 20 minuti in questo stato se capite che lasciandolo in questa posizione in 20 minuti è bello che è carbonizzato e morto ok spegniamolo iniziamo a spegnerlo apriamo l'acqua cioè spegniamolo mentre Randall tu li so spegni io inizio a svegliare James sì da lì è una pozione e anche Godric io guardo nel buco nel buco è buissimo vedi fino a un profondo nel frattempo James si riprende Godric si riprende allora ritorniamo al mio buco non vedo un cazzo posso illuminare la situa? dovremmo farlo fare a Godric così almeno come ha fatto nel tunnel che ha illuminato tutto vediamo a Godric di illuminare la via nel frattempo che fate tutto questo gli sentite pronunciare non mi ricordavo il nome incarceramus e dalla bacchetta di Godric partono delle catene di ferro che si legano legano completamente il professore egiziano e non solo lo legano ma sono catene che si legano al pavimento quindi è completamente incatenato per terra allora professore prima di tutto se riesce ad illuminare l'assolto così capiamo e nel frattempo invece gli dico del mio sogno del lucertolone cioè della mia visione del lucertolone mi sembra una splendida idea lumus solemn e tira praticamente non come non come siete abituati a vedere voi un lumus dalla bacchetta ma proprio una una piccola pallina esce dalla bacchetta e va giù per il tubo vabbè io gli ho detto del mio sogno della mia visione del lucertolone comunque e cosa hai visto? e gli dico quella della tizia che partoriva il bambino con gli occhi da serpente questo allora cambia tutto non è Salazar là sotto dovremmo andare a vedere andiamo Godric si fa si fa coraggio salta giù e inizia a scivolare Atena una bella scivolata e arrivati in questa sala completamente buia e Viola riconosci ben distintamente questi cunicoli di pietra perché sono quelli che hai visti nella tua visione vedi una piccola sala andare dritto 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 fino a un una faccia con la bocca aperta che raffigura Salazar quasi come una statua bella gigante davanti a questa faccia un uomo in toga nera e verde e professore cosa fa Godric e Godric è davanti a voi Godric chi è quello sta cercando di capire in che prof chi è quello lì e Salazar e cosa vogliamo fare penso sia collegato anche con gli egiziani visto che è il professore là sopra ma penso sia qui per risolvere la questione sì sono legati sono legati da un legame di sangue da aeree ma insomma amici non credo voglia fare Salazar non è quello che pensa ma non vogliamo dire scusate ma non vogliamo dire al prof che noi siamo stati nella stanza gli egiziani abbiamo visto sì sì ditegli tutto prof noi sospettiamo che ci sia un maledetto comunque tra gli egiziani anche tra l'altro che sarebbe il protetto che potrebbe essere dite il principe colui che ha dei legami di sangue con Salazar tutta la sua stirpe potrebbe essere tutto torna no quindi Salazar potrebbe essere un biscione come lui un serpentone come tutti quanti dei serpentoni dovremmo chiederglielo ma sì facile vado lì gli dico scusa sei un serpente io propongo signor professore di andare dal caro amico Salazar e chiedergli che cosa aveva in mente fin dall'inizio sicuramente non possiamo chiederglielo noi non dice perché se glielo chiediamo noi ci sputa addosso magari lei andiamo cerchi di usare Protego solo perché se vola un'altra volta prof è un casino varcate varcate questo posto e Godric si avvicina a Salazar e dice Sally amico mio cosa sta succedendo tiratemi iniziate iniziamo a svenire a caso finezza finezza che odio la finezza per dio è una cosa che avete già visto perché mentre Godric vi parlava e vi diceva di andarvene avete proprio visto il professore quando eravate di sopra estrarre la bacchetta di nascosto girarsi e tirare un incantesimo contro di voi mentre Godric si sta avvicinando non si aspetta probabilmente che il suo amico gli faccia un torto ma voi vedete distintamente un lampo verde uscire dalla bacchetta di Salazar porca troia colpire diretto Godric cosa e Godric cade solo ai vostri piedi in che senso vi sembra esalando l'ultimo respiro ammazzato ma non così no io mi faccio i cazzi io io avevo detto di usare Protego però sto giro cioè è proprio scemo è morto da cretino è proprio un piccio dai vedete uscire da una parte lontana a destra dietro Salazar questo lucertolone che non è nient'altro che un grosso serpente con zanne affilate striscia in questi cunicoli ed è semplicemente grosso serpente che è arrivato ad un certo punto è arrivato sotto la statua sotto l'immensa faccia di Salazar riprende le sue piccole fattezze da umano ed è il ragazzino che voi avete incontrato è il il principe e Salazar si gira lo afferra in braccio Godric e il suo immenso la sua immensa curiosità per l'avventura dove lo ha portato e dove ha portato voi però se dovesse uccidere cinque marmocchi la gente inizierebbe a chiedersi qualcosa giusto parisce un marmocchio egiziano il mio piccolo erede l'erede vero l'unico erede dei serpeverde e cinque ragazzini così vicini a capire cosa sta accadendo dentro questo castello posa il bambino per terra lo vedete puntare la bacchetta verso il bambino e il bambino inizia a dimenarsi a contorcersi dal dolore fino a che il dolore non lo consuma talmente tanto da farlo ritornare questo immenso bestione che riprende a girare nei cunicoli e Salazar si gira verso di voi cosa devo fare con voi io non dirò nulla tarantella ma facciamo ballare a sto serpente ah ma balliamo noi piuttosto magari si mette a ridere e ci risparmia boh raga dobbiamo parlare perché non abbiamo altre armi desiderate morire ragazzi no indicativamente no al primo anno no fammi arrivare al quinto in realtà vorremmo che tutto vada bene non muoia più nessuno esatto tutto andrà bene sapete la seconda parte e va verso Randall lo prende sotto braccio e dice alcuni sono più portati per qualcosa eh lo so ma infatti signor Salazar se vuole io comunque tarantella per altri il cappello parlante può sempre sbagliare no unitevi a me adesso formiamo un piccolo circolo solo tra di noi cerchiamo di tenere questa cosa segreta cerchiamo di fare in modo che la casata dei serpeverde il sangue dei serpeverde venga portato avanti solo dai puro sangue solo da coloro che meritano di sapere cosa c'è davvero dietro la magia questa camera questa camera segreta potrà essere un luogo di riunione per tutti noi potremmo imparare le magie più oscure i riti più antichi il potere più celato dagli antichi egizi fino ad oggi unitevi a me si tocca il braccio con la bacchetta e fa un piccolo simbolo un teschio dal quale esce un serpente che si attorciglia e fa un nodo Randall porgimi il braccio io li porgo il braccio Salazar lo prende ti fa il marchio non farlo Randall e quando avrai bisogno di convocare tutti i tuoi fratelli basta semplicemente che attiverai questo marchio passandogli sopra la bacchetta Viola Chiralia James e Percival unitevi a me porgetemi le vostre braccia guarda mia mamma mi ha sempre detto di non fare con le strane si offrono le braccia agli strani possiamo parlarne un attimo discutere io nel frattempo posso buttare un attimo un occhio sul professore morto per vedere se è morto veramente è morto è già bianco cadaverico è stato un piacere ruolare con voi è stato un piacere con voi oddio gli porgo il braccio cosa? ma diventa uno scogliatto nel frattempo non me lo aspettavo da un grifondoro aspetta non è finito ovviamente so che sarà la cosa più difficile del mondo però dato che ho visto fardo a Randall quando avvicino alla bacchetta voglio provare a prendergliela e a strappargiela di mano tanto con gli incantesimi non si può fancazzo potere ma no io sono io sono un serpe verde ahia in ogni caso posso fare il triplo gioco sa che raggiungi il professore come provi a prendere la bacchetta lui tiene salda una cosa e fa ah non potevo aspettarmi altro da un grifondoro da un godrick come lui credo che la vostra sorte sia legata in fondo no? stessa casata stesso nome che dici Randall? vuoi farlo tu? scusi? guardi non ci sarebbe gusto ad ucciderlo così a sangue freddo voglio voglio goderlo allora lo ucciderò io ma anche per lei non ci sarà gusto non provare a prendermi in giro vuoi tenerlo in vita? sì ma perché ha le chiavi in realtà mi serve e poi voglio farlo io professore te ne occuperai tu allora in futuro un giorno viola chirali a persival guardate bene cosa accade a chi non deciderà di unirsi a noi sì ma anche io voglio essere ucciso da Randall comunque se posso scegliere nel senso è un amico mi mette la bacchetta in testa e pronuncia oblivion e cadi cadi ti addormenti James ma aspettavo un cruce è andata pure bene ma questo è sempre svenuto comunque è un sorto che vivo intanto l'ho salvato del culo viola chirali e persival cosa fate voi scegliete la strada di James o la strada di Randall posso io mi metto vicino a James con gli occhi chiusi tipo io faccio un pisolino se questa è la tua decisione oblivion viola e chiralia cioè ma se ma dai chiralia vai prima tu io seguo il mio compagno di casata non voglio diventare che spreco tutto quel sapere tutta quella potenza quella bravura ci faresti comodo potresti diventare una delle streghe più potenti dell'intero mondo ma lo posso diventare lo stesso oblivion viola cosa scegli? oblivion Randall quando i tuoi amici si sveglieranno non ricorderanno niente di tutto quello che è successo per loro dispiacevoli in questo anno né di quando siete entrati nella camera degli egiziani né di quando siete andati fino a Dogsmith né di quando uscivate per le vostre scorribande nei bagni avranno dimenticato tutto ricorderanno solo le allegre lezioni cosa avete fatto a Quidditch le casate ma tra noi non è finita perché tu ora mi hai giurato fedeltà ho giurato oddio ho giurato fedeltà certo certo signor Salazar io sono un uomo di parola l'anno scolastico è finito e dal prossimo anno ti posso dire che tu assieme a me e assieme ad altri tuoi compagni seguirai delle lezioni speciali per imparare degli incantesimi speciali quando vorrai ma di te mi dovrò fidare non penso che tu dica nulla non abbia nulla in contrario se mettiamo tutto per iscritto vero? ma io non so cosa fare io ho capito cosa vuole far di fare ma cazzo esatto esatto non firmo? no no vabbè devi parlare tu io non so nulla devi solo riporgermi il braccio Randall ma diciamo io non vorrei firmi non mi piaccio lei deve avere fiducia in me professore io avrò fiducia in te se mi porgi il braccio altrimenti verrai semplicemente obbliviato come i tuoi compagni ma lei non ha fiducia in me io ho fiducia in lei professore perché perché devo firmare non firmo niente no non c'è niente da firmare devi solo tendermi il braccio non dargli suggerimenti non vedo l'ora di inizio del secondo anno vabbè se lo metti così ti do il braccio sto put ti da il braccio e te pigliati sto braccio ti prende così come una stretta da bro e inizia a vedere un filo rosso che si crea tra le vostre braccia che stringe che brucia ti pensi che ti possa lasciare una cicatrice lui semplicemente aspetta che il filo venga generato del tutto si stringe si stringe si stringe fino a quando non lascia le braccia e ti spiega se tu proverai a raccontare qualcosa di quello che è successo ai tuoi amici morirai e niente se tu proverai a raccontare qualcosa del marchio che hai sul braccio morirai e niente qualsiasi cosa che non dovrà essere raccontata se la racconterai il tuo cuore smetterà di esistere semplicemente sei un mio soldato e come mio soldato ti insegnerò tutto a patto che se vorrai raccontarlo ai tuoi amici di loro spontanea volontà dovranno unirsi a noi mangiamorte ti darò una mano a riportarli nelle loro camere lui prende tutti i corpi si smaterializza li porta nei loro letti si rimaterializza sotto ti porta nell'ufficio dopodiché ti da l'accoglienza benvenuto nei veri eredi di Serpeverde ci rivediamo il prossimo anno buon rientro a casa